ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in un nuovissimissimissimissimo video di giurassi no scherzo di fortnite e quest'oggi andremo a trovare un'arma segreta che non si trova né nel bunker né uccidendo un boss né nei bauli e né normalmente un'arma segretissima tu come fai sapere scusa che ho visto un video sì ma non vi dico il video quindi certo non lo dice è che il nostro canale avevo fatto io di notte che tu non ne sapevi niente di star ma allora quest'arma si trova alla fattoria del gelato no quest'arma si trova alla fattoria del lama e non mi ricordo dove era la fattoria del lama dov'è la fattoria del lama ma se non la trovo l'ho trovata ecco nella fattoria del lama non trova gialla ma quello lì che conosciamo tutti che ci da spray cose così adesso devo pagare altri 600 lingotti 2965 vediamo ancora una volta se c'è un'arma molto forte è un'arma molto forte hanno fatto fuori ci hanno fatto fuori si perché dipende da chi vabbè dai prendi l'al cecchino è potente si trova hai rotto le scatole vai a vedere che armi già ah ma è senza senti hai rotto le scatole danni le tue armi che ne è andato vabbè comunque almeno abbiamo due cose così quindi che li mettiamo addosso buongiorno l'arma si trova da questo questa è la prelibatezza del gioco beh credi eccolo buon sniper rifle cos'è questo? ah se che ci vuole vabbè quanto è questo? vabbè eccolo dice che se lo prendi a una grande distanza ti li metti a KO sì sì ho visto ma l'arma super segreta lo sanno tutti hanno dato anche nel giornale se proviere aspetta che quest'arma ragazzi ecco com'è allora guardate io mi nascosto se muoio mi trincherò male guardate io sparo quell'albero ok vede anzi con la roccia sì no vabbè sparo quell'albero sparo la macchina guardate boom wow c'è un esplosione boom sparo wow incredibile il cecchino fa 110 ma non consumare quella roba lì il cecchino fa 110 ho capito ma non consumare la roba teoria dobbiamo mostrare l'arma teoria cecchino se lo becchi chissà dove fa 110 e infine che se lo becchi nella testa muore istantaneo e la bomba li fa 60 quindi le cifre sparate non so da dove hai preso è così va bene poi prendi questo e va all'attacco aspetta che prima ti voglio prendere ho c'è un bosco sbaglio scusi e non c'è e se finisce munizio al pubblico c'è chi no cosa mi dai ho ucciso si bravo il giocatore dell'anno non volevo va bene e appunto per questo stanno andando qui però il problema che sta arrivando la tempesta ma vai munizioni di tutto non scudono ecco questo che ci ha lasciato l'ama prima che si ne andassi e noi mi ubriaco mi ubriaco tanto queste abbe sono schifose perché tanto se ti becca e ti cade in testa ti fa 100 certo lo provo io dov'è no non nuotare non nuotare no 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 mi ubriaco ok ok vai boom il nardino guarda l'albero che male che male che faccio male che mi ha fatto un albero che male che male che male che mi ha fatto un albero è certo che ti ha fatto cioè ti faccio mi ho detto che quegli alberi fanno schifo eh ma ti ha sparato andiamo veloci magari c'è qualcosa che mi ha fatto fuori perché l'albero ti fa 100 il clomo spariamoli addosso no dai c'è rabbia come al solito uno che mi sono consumato ok parvi addosso ma perché devi fare queste robe lascialo che è mortale ma perché devi fare queste robe dai che è mortale ok ok ah mi spara a me eh certo come puoi spararmi di là fino a qua eh guarda l'altro è arrivata oh per carità l'ho pingato eccolo aspetta che ho un'idea la benzineria eh 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 eh